Nereto inerme ed in balia del Vasto Girardi che sul terreno casalingo è insuperabile. 4 a 2 risultato finale all'undicesimo Alagia, atterrato al limite dell'aria, cade ma l'arbitro non dà rigore. Dopo 60 secondi cambio di gioco di Guadalupe e pronto guida che insacca sul secondo palo. Al quindicesimo tiro pericoloso di Nardin, parata in volo plastico di Distasio. Corre il 27esimo, il calcio piazzato di Ruggeri di prima intenzione rimbalza davanti al portiere, nessuna difficoltà per Diglio. 32esimo cross di Ristowiski per pedalino di poco alto sulla traversa. Cartellino giallo al 35esimo per Sant'Angelo per il fallo su guida, sul punto di battuta Ruggeri e guida a tirare e Ruggeri dopo la finta del Goliador. Il pallone finisce direttamente tra le braccia del portiere. Dopo poco Minchillo aggancia guida che prolunga per Salatino, ma il numero 9 temporeggia troppo dinanzi al portiere che si salva in angolo. Dalla bandierina Guadalupe è uscita da rivedere di Diglio, ma guida è pronto dalla sua mattonella e telecomanda dall'angolo lontano il pallone del 2-0. Al 40esimo Alagia si lancia a rete, ma la palla si stampa sul palo. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i padroni di casa. Con la ripresa guida si avvicina alla rete, ma invece di provare il tiro mette in moto Salatino che gonfia per il 3-0. Al tredicesimo divora campo Alagia, prova il tiro, la palla viene respinta. Guida è sempre pronto a recuperare ad ogni errore degli avversari che supera come Birilli e segna il 4-0. Al quindicesimo fa il suo esordio in maglia giallo-blu l'argentino Thomas Prado, classe 96, che si fa subito vedere con questa diagonale che finisce larga. La palla arriva dalla metà campo, liscia di testa Gargiulo e termina sui piedi di Pedalino ed è 4-1 per gli ospiti. Il secondo indizio fa una prova di quanto sopra. Il vasso Girardi perde la palla, ne approfitta Cipriani, ma questa volta Di Stasi è vigile. Al 45esimo però Ferrin mette al centro, Di Stasio schiaffeggia il pallone, Pedalino è lì e calcia di prima intenzione, traversa interna e palla oltre la linea per il 2-4. Al tripice fischio del signor Mattia Rodighiero della sezione di Vicenza, il vasso Girardi conferma l'imbattibilità interna. Francesco Gangi, direttore sportivo del vasso Girardi, finale contro il Nereto 4-2, ultimo acquisto Prado, un'azione di Prado, un tentativo di tiro in porta che però non si è concretizzata. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, non era facile perché all'inizio tutte le partite sembrano semplici, poi quando vai ad affrontare i fanalini di coda invece nascondeva Milenzire. Siamo stati bravissimi nel prepararla e nell'affrontarla al meglio. Poi sì, c'è stato anche l'ingresso in campo del nuovo arrivato che è arrivato da noi da mercoledì, quindi è arrivato a darci una mano, a rinforzare la rosa a disposizione del mister e siamo già contenti che è sceso in campo, ora piano piano imparerà a conoscere i compagni, l'ambiente e a integrarsi con i meccanismi che richiede il mister. Direttore, dopo la mezz'ora del secondo tempo sono usciti Capitan Ruggeri e Guida e qui il Vasto Girardi ha subito due gol, ne stava rischiando addirittura di subire tre gol. Possiamo confermare che senza guida il Vasto Girardi è debole? No, senza guida il Vasto Girardi. Innanzitutto dico che sia Sergio che è un pilastro del Vasto Girardi da tanti anni e Guida che si sta confermando in questo secondo anno qui a Vasto Girardi è un giocatore nostro che ce lo coccoliamo, però è pure vero che tutta la squadra mette a disposizione palloni, lavora per lui per metterlo nelle condizioni migliori. Poi Guida in questo momento penso che sia, ma lo dicono i numeri, nella sua migliore momento, nella sua maturità calcistica e quindi ce lo godiamo. Lui è concentrato per essere a disposizione del Vasto Girardi e centrare i propri obiettivi sui personali, deve continuare così e quindi diciamo che non è che Guida è sicuramente un giocatore importantissimo e sostituibile in questo momento, ma lo sarebbe in tante altre squadre. Quindi diciamo che io farei un applauso a tutti i ragazzi perché tutti fino ad oggi sono comportati benissimo e sono in linea con i loro obiettivi. Mercoledì, ultima partita contro il Fano qui in casa. Sì, mercoledì arriva il Fano, è un'altra partita importantissima per noi perché chiude questi primi quattro mesi, quattro mesi e mezzo di lavoro e dobbiamo cercare di affrontarla e prepararla nel miglior modo possibile perché poi ci saranno le feste e finirla nel modo migliore sicuramente ci permetterà di goderci sicuramente un Natale più sereno perché noi sportivi che viviamo di calcio, finire con dei risultati positivi come quelli di oggi sicuramente ci danno più gioia. Cosimo Salatino, giocatore del Vasto Girardi, 4-2 contro il Nereto, il Vasto Girardi che si comporta insomma come una squadra da leone, insomma da campione in casa, fuori casa però non riuscite a portare vittoria. Era importante vincere, fuori casa la stiamo cercando, se continuiamo così a esprimere questo gioco la troveremo, l'importante era vincere oggi, adesso abbiamo un'altra partita in casa e dopo le feste natalizie vediamo di portare qualche punto anche fuori casa perché lo meritiamo soprattutto. Negli ultimi dieci minuti avete subito due gol, addirittura ne stavate subendo un terzo, cosa è successo? È successo che molto probabilmente abbiamo abbassato un po' i ritmi, abbiamo staccato la spina, questo qua non deve succedere, soprattutto in questo Girona perché è molto difficile, trovi giocatori forti quindi non deve succedere una cosa del genere. Prossima partita, l'hai detto anche tu, in casa contro il Fano. È una squadra forte, dobbiamo cercare di mettere l'atteggiamento che abbiamo messo oggi nelle ultime partite anche se alle altre siamo stati un po' sfortunati, con qualche episodio anche contro, quindi mercoledì prima delle feste dobbiamo vincere per farci un Natale molto sereno. Grazie.